Ciao ragazzi, scusate la mia presenza, scenica, fisica, comunque sono truccata, pronta per uscire, quasi pronta, Dino deve ancora arrivare a casa, andiamo al concerto stasera di Anastasia, yeee, farò tantissimi video, quindi smalto blu, vestito rosso lunghissimo così è comodo anche se un po' aderente sulla pancia, sono gonfia, non lo so, voi mi dite che sono magra, non sono incinta, come credevate quando ho fatto il video del top bianco di Lidl, non sono incinta, ho solo un po' di pancia, mangio tantissimo ultimamente e ho sempre un sacco di gonfiore intestinale, addominale, non so come si dice, comunque sono gonfissima, veramente super gonfia, andiamo al concerto di Anastasia, sono truccata in questo modo, vi ho fatto delle foto, vi ho fatto anche un mini velocissimo get ready with me, mi preparo con voi in italiano, perché me l'ha richiesto una ragazza, io non voglio darmi l'aria, non sono nessuno, non sono brava a truccarmi, ci provo, sto imparando con pochissimi prodotti, veramente sto imparando, anche con i pennelli, mi sto imparando a truccarmi, correttore, lip gloss, rossetti essence, quindi prodotti tutti economici, prodotti regalati, tra poco comunque usciamo, sono agitatissima, spero di vederla bene da vicino, è uno spettacolo a De Grou, al centro commerciale qui a Torino inizia alle 10, per tutti quelli di Torino se non lo sapete stasera c'è Anastasia, anche se in settimana voi sicuramente lavorerete, fortunatamente Dino alle 6 e mezza, cioè tra poco arriva e alle 7 e mezza ce ne andiamo, con mio padre, ciao papà, cercherò di fare video anche con mio padre prima del concerto e magari anche dopo, ma sarà difficile perché mi vergogno con mio padre sinceramente a fare video, comunque ci provo, gliel'ho detto anche ieri a Dino, Dino voglio fare video con mio padre, come faccio? Incrociamo le dita che vada tutto bene, che riesco a vedere Anastasia dal vivo, sarà difficilissimo e impossibile per me, perché non so parlare inglese, fare una foto io e Anastasia, ma è troppo bella, troppo brava, ha una voce stupenda, meravigliosa, quindi I love you Anastasia anche se non sono lesbica, a dopo, adesso mi preparo con voi, l'ho fatto così perché mi sono lavati i capelli, sto sudando, morendo di caldo, forse mi farò lo chignon, sto veramente sudando, aspetto di non si fa la dolce, mangiamo cena con papà, forse una pizza o un panino, nel centro commerciale, un gelato, anche se mi sono mangiata quattro ghiaccioli in un giorno, tanto è solo acqua, a dopo, ciao, sono emozionata! È stata un'ottima un'ottima notizia di sapere, di sapere i superiori del nostro città di sapere, di diversi parti del nostro città, la energia e l'amore, e in la mia cariera ho avuto molti tempos, emozionale e con la salute, e quando ho avuto, mi scrivono molte letteri e molte cose che mi hanno messo forte e mi hanno e abbiamo potuto andare bene e quindi io sono felice il tuo potere ha helpedo me e io spero che il mio potere sempre aiutarti e capisci che noi non saranno mai soli non è mai soli ok, il suo nome è Orifo quindi tutti diciamo ciao Orifo ciao Orifo ciao Orifo ok, get back to work get back to work all right woo how do you say how do you say hot in Italian caldo caldo oh it's mucho caldo 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 I'm so I have too many countries in the world I know hisp Italian I'm sorry but you know what I will show you something you haven't seen in a while ok, come and cry caldo 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501